Per favore passate dal banchetto tutti quelli che hanno la residenza a Milano. Mattia, ribadisci il voto martedì? Esatto, per votare le riconferme verrà comunicato via mail, comunque controllate in ogni caso i social network per tener conto delle indicazioni di come avverrà la votazione, seguite e non mancate settimana prossima di votare e esprimere il vostro parere sui consiglieri. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.